Tutte le news sull'Alessandria Calcio, lunedì alle ore 13 su 7 Gold, grigi nel cuore. Due 22 anni italiani sono finiti in manette nelle tortonese per produzione spaccio di sostanze stupefacenti. I due spedivano la droga via apposta, occultandole in confezioni stilizzate con tanto di marchio prodotto ad hoc. Il presidente di Italy, Oscar Farinetti, furente a Genova contro il rincaro delle bollette dell'energia elettrica. Di questo passo chiuderanno molte aziende, ha detto. Il governo deve intervenire la situazione più grave della pandemia. Primi dati della prossima vendemmia che si prospetta di alta qualità. Resta però il problema di come commercializzare il vino che sarà prodotto. Spina, del fianco delle Made in Italy e ancora una volta la Francia. Svelati i vincitori della 55esima edizione del premio Acquistoria, la cerimonia si svolgerà come sempre ad Acquiterma, al Teatro Ariston, nel pomeriggio di sabato. Un bel ritrovato a tutti voi cari amici telespettatori. In apertura di giornale La Cronaca introducevano la droga che coltivavano in confezioni stilizzate. Si erano creati anche un loro brand per commercializzare il loro prodotto. Carabinieri di Villalvernia e di Tortona arrestano due 22enni italiani in servizio. Due 22enni italiani incensurati sono finiti nei guai per aver organizzato un vasto traffico di stupefacenti. I due avevano allestito un campo per la coltivazione di cannabis. 54 le piante sequestrate dai carabinieri di Villalvernia con il supporto di quelli di Tortona al comando del capitano Domenico Lavinia in una zona boschiva impervia nel comune di Castellaniacoppi nell'Alessandrino. A fare una segnalazione alle forze dell'ordine sono stati alcuni cittadini incuriositi da quello strano via Vai. Una segnalazione di alcuni cittadini che notavano dei movimenti sospetti in quelle che sono state le colline in cui Fausto Coppi si allenava ma in realtà qualcuno aveva pensato bene di tramutarle in un ampio campo per la coltivazione di stupefacenti. Il grazie va al cittadino che ancora una volta si è affidato all'arma dei carabinieri e ai militari delle stazioni carabinieri che controllano giornalmente il territorio. Sono dunque subito scattate le indagini che hanno portato al campo dove i 22enni, uno dei quali agricoltore, aveva seminato la piantagione fino ad intercettarli a piedi con due zaini da trekking mentre si stavano recando nel campo per la manutenzione di routine. 53 le piante scoperte di altezza fra i 50 centimetri e i 2 metri, oltre a tutto il materiale per la coltivazione, l'irrigazione e il trattamento. Nella loro auto i carabinieri hanno poi sequestrato 63 grammi di marijuana e quasi 9 di hashish, già suddivise in dosi e pronte per la vendita che avveniva tramite posta. Un canale che ormai abbiamo evidenziato anche in altre attività di indagini e quindi non più la vendita al minuto in strada o presso eventuali luoghi previo accordo telefonico, ma la spedizione direttamente a domicilio. La droga è stata sequestrata anche in casa. In una i militari hanno trovato 4,5 grammi di hashish, nell'altra quasi 2 chilogrammi di marijuana e quasi un chilo e mezzo di hashish. Anche in questo caso già suddivisi in dosi di vario peso e un'ulteriore pianta di canapa indiana, oltre a due serre per la coltivazione, una pressa e svariato materiale per il confezionamento, la vendita e la spedizione. I due, dopo la convalida del fermo, si trovano ai domiciliari in attesa del processo. Andiamo a Torino. Sono da oggi il colonnello Alessandro Langella, il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. L'ufficiale subentra al parigrado Enea Zanetti, che dopo tre anni alla guida del reparto è stato destinato a un altro incarico presso la scuola di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle. La cerimonia di passaggio di consegna si è svolta questa mattina nella sede del reparto di via Giordano Bruno, alla presenza del comandante provinciale di Torino, il generale Luigi Vinci Guerra. Per il colonnello Zanetti, quello vissuto alla guida del nucleo di polizia economico-finanziaria, è stato un periodo molto intenso, caratterizzato da un'attività operativa ad ampio raggio. Alessandro Langella, romano di 47 anni, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria. Nella sua carriera ha rivestito diversi incarichi di comando a Roma e Napoli, maturando un'esperienza pluriennale presso il nucleo speciale di polizia valutaria e da ultimo quale capo ufficio legislazione presso il comando generale del corpo, è titolato del corso superiore di polizia tributaria. Riflettori puntati questa sera alle 21 al laboratorio sociale di Via Piave ad Alessandria, dove verrà presentato il documentario intitolato Solvay Pollution Invisible. All'incontro aperto alla popolazione sarà presente Valérie Dupont, la giornalista che ha affiancato la troupe della televisione belga nel reportage sull'esito delle analisi del sangue in 50 cittadini tra Spinetta Marengo e Alessandria. Lo studio, realizzato in collaborazione con gli scienziati dell'Università di Liegi, ha cercato di appurare la presenza dei cosiddetti veleni di Solvay nei volontari che si sono sottoposti a questa ricerca. Subito dopo la proiezione si terrà una conferenza a cura del comitato Stop Solvay con esperti e relatori che interverranno su questa delicata e altrettanto scottante problematica ambientale e di salute. Un Oscar Farinetti a ruota libero, quello che a margine di un evento a Genova si è scagliato furente contro i rincari energetici che stanno mettendo in ginocchio il mondo imprenditoriale. È qualcosa che non si può sostenere, ha detto il presidente di Italy. Di questo passo saremo costretti a fare la dieta delle bollette mangiandocele, giustandocele, visto che stiamo andando verso la scelta se pagare gli stipendi o il costo delle forniture energetiche. Farinetti ha poi fatto sapere che una sua azienda a Fontana Fredda è passata da un costo di 250 mila euro a 3 milioni. Eppure a follia ha aggiunto, il governo deve intervenire con la massima urgenza. Se l'Europa nicchia allora dobbiamo fare qualcosa a noi, altrimenti il rischio è quello di morire. Questa è un'emergenza molto più catastrofica della pandemia soggiunto. Prevedo che già nei prossimi giorni saranno molte le aziende costrette a chiudere. Una roba davvero folle. Un aiuto concreto a centinaia di famiglie in un momento di grave difficoltà. Si è detta soddisfatta l'assessore, alle personali, alla famiglia della Regione Piemonte dell'iniziativa che permetterà a più di 2 mila dipendenti dell'ente un risparmio sulle spese di trasporto per raggiungere il proprio luogo di lavoro. A partire dalle 1 aprile del prossimo anno a tutti i lavoratori che acquisteranno l'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale tramite la procedura di agevolazione al mezzo pubblico di Regione Piemonte sarà riconosciuto uno sconto pari al 50%. Il tutto grazie all'iniziativa di welfare aziendale avviata da Regione Piemonte e al contributo del Ministero della Transazione Ecologica. Il costo del 50% non a carico dei dipendenti verrà sostenuto al 20% dalla stessa Regione per il restante dal Ministero per la Transazione Ecologica. L'iniziativa sarà assicurata anche ai possessori di abbonamento annuale acquistato tramite procedura di agevolazione al mezzo pubblico di Regione Piemonte con decorrenza al 1 settembre 2022 ossia quella che permette la rateizzazione in busta paga del costo del 50% dell'abbonamento che potranno interrompere il contratto in corso al 31 marzo 2023 senza gravi economico o penali e potranno richiedere un nuovo abbonamento annuale con decorrenza al 1 aprile sempre del prossimo anno e sempre pagando la metà del costo. Il prossimo weekend è domenica 25 settembre lungo la linea ferroviaria Alessandria-Piacenza sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale a cura di rete ferroviaria italiana Gruppo FS che serviranno per l'innesto alla linea del terzo valico dei Giovi per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria subirà limitazioni tra le stazioni di Alessandria e Tortona in particolare i regionali Asti-Alessandria-Voghera saranno sostituiti da busse tra Alessandria e Voghera l'Intercity-Lecce-Torino-Porta Nuova e Torino-Porta Nuova-Lecce seguiranno il percorso via Milano e non fermeranno nelle stazioni di Voghera Tortona-Alessandria-Asti-Torino-Lingotto da Piacenza ad Asti sarà infine istituito un bus sostitutivo Buone notizie dal mondo vitivinicolo italiano con una vendemmia in crescita del 3% in più rispetto agli ultimi 5 anni a preoccupare adesso c'è però una cosa ossia la vendita che unita al caro vita di questi ultimi mesi prevede una netta diminuzione soprattutto nel mercato estero ce ne parla Beatrice Augustaro La siccità non ha spaventato il vino e la vendemmia in Italia anzi forse con grande sorpresa ne ha migliorato la qualità facendo superare la media degli ultimi 5 anni con un più 3% Secondo un'analisi dell'osservatorio Astroenology, Ismea e Unione Italiana Vini la produzione 2022 non può essere che soddisfacente con i suoi 50,27 milioni di ettolitri la stessa dell'anno scorso che si attesta ancora per questa stagione il primato di produttività in Europa con stupore però perché già a maggio e giugno con 40 gradi all'ombra si pensava che l'uva e le coltivazioni non avrebbero mai retto un meteo così tanto coccente mai visto prima dal 1800 fino a oggi ma nonostante questa notizia ora c'è una nuova preoccupazione le vendite che rientrano nella sfera drammatica dell'aumento delle spese e dei salari ridotti fino all'osso il vino adesso ha un prezzo medio aumentato del 13,1% le prime battute della nuova campagna delinano uno scenario ancora incerto e con molte incognite ha detto Fabio Delbravo responsabile di direzione e servizi per lo sviluppo rurale Ismea dal punto di vista di mercato in Italia non dovremo preoccuparci al momento mentre sul fronte estero si nota già qualche segnale di cedimento negli acquisti rispetto al 2021 il master più richiesto è indubbiamente lo spumante che nella prima parte dell'anno ha sfiorato il miliardo di euro in valori con volumi a più 10,6% a seguire i fermi e frizzanti imbottigliati che segnano un più 10,3% a livello europeo però l'Italia si gioca la concorrenza con un'altra grande capitale del vino la Francia che nel quadro della fatturazione supera il nostro paese con una redditività che tocca i 16,6 mila euro per ogni ettolitro prodotto serve fare ancora tanta strada per garantire una remuneratività direttamente proporzionale alla qualità affermato Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini con un percorso che parte da un governo del settore più razionale in materia di denominazione di origine fino al vino comune le giurie del premio Acquistoria hanno designato i vincitori della 55esima edizione del premio per quanto riguarda la sezione storico-scientifica su 32 volumi presentati è stato proclamato vincitore Carlo M. Fiorentino con il volume Il Garbuglio Diplomatico l'Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866 la giuria della sezione storico-divulgativa che annoverava 69 volumi in concorso ha invece decretato la vittoria di Christopher Hardin con il volume Giappone Storie di una nazione alla ricerca di se stessa dal 1850 a oggi Mauro Mazza con Diario dell'ultima notte Ciano Mussolini lo scontro finale ha invece vinto i 6500 euro in palio per la sezione del romanzo storico qui erano giunte 61 opere letterarie infine la giuria della sezione romanzo storico ha deciso di assegnare una menzione a Soile Mezze Sebanate per il volume Lettere dalla cupola blu del cielo la cerimonia di premiazione in programma sabato alle 17 al teatro Ariston di Aquiterme e adesso invece con la nostra Alessandra della Cacene andiamo a Val Madonna dove incontriamo i nostri piccoli grandi amici a quattro zampe festa a quattro zampe domenica 18 settembre al canile rifugio Cascina Rosa qui ad Alessandria è un momento tranquillo sentiamo di sottofondo gli ospiti di questa struttura sono sempre troppi gli ospiti dei canili accanto a me Lola che è educatrice operatrice qui appunto in attività e accanto ancora a noi la signora Maria Grazia che è una volontaria a rappresentare tutti i volontari che si prodigano appunto per gli amici a quattro zampe una festa importante è quella di domenica un rilancio a partire dalle 15 quindi l'invito ad arrivare qui e io dico prendiamo la piccola lady come testimonial lei è arrivata proprio ieri e ha bisogno di una nuova famiglia sì, la piccola lady è uno dei nostri ospiti più recenti ma in realtà ce ne sono tanti che appunto sono in attesa di trovare una famiglia e speriamo che domenica sia un'occasione per farci conoscere e soprattutto far conoscere i nostri ospiti che ne hanno bisogno assolutamente quanto è importante dare costanza all'attività del volontariato quando gli animali si affezionano ovviamente ai propri padroni e qui trovano a loro volta un'altra grande famiglia però il luogo ideale ovviamente è una casa una casa vera sì sì allora dare continuità al volontariato è molto importante perché per i cani avere delle figure di riferimento costanti è un aspetto fondamentale per il loro benessere è vero anche che per quanto noi ci impegniamo nell'accudirli e nel seguirli l'ideale per ogni cane è trovare una sua famiglia una sua collocazione che cosa succederà domenica domenica a partire dalle 15 domenica a partire dalle 15 il canile sarà aperto completamente al pubblico quindi le persone che vengono possono visitarlo interamente vedere tutti i nostri spazi anche gli spazi verdi che abbiamo cercato di ricavare proprio per i cani e avranno la possibilità grazie al sostegno dei volontari presenti di avere tutte le informazioni sia sui cani stessi sull'iter dell'adozione insomma su tutte quelle che sono le nostre potenzialità in qualche modo per aiutare questi cagnolini Lola lei è educatrice comportamentista ricordiamo che avere un animale al proprio fianco è avere un membro di famiglia a tutti gli effetti da acudire da curare di cui prendersi cura e quindi è fondamentale anche l'approccio soprattutto nei confronti dei più piccoli che spesso vogliono un animale giustamente per casa ma è un impegno enorme Sì allora prendere un cane è un impegno enorme come acquisire un nuovo membro della famiglia a tutti gli effetti ha le sue esigenze i suoi bisogni ci darà tantissimo ma dobbiamo dare altrettanto proprio per questo noi facciamo sempre un iter di adozione cioè l'adozione non è come dire vengo prendo il cane me lo porto a casa ma è una conoscenza reciproca che porta via un po' di tempo Maria Grazia da quanti anni è che lei fa volontariato qui in Canile qui a Cascina Rosa sono 12 anni a settembre 12 anni però prima avevo fatto volontariato in un altro Canile e quindi in tutto fa 30 anni e più e siamo in zona sport ancora un impegno sulla carta proibitivo per l'Alessandria a calcio che nel turno infrasittimanale a Gubbio è alla ricerca dei primi punti di questo campionato da pochi minuti è fischiato il calcio d'inizio al Barletti i grigi arrivano da due sconfitte l'ultima rimediata domenica scorsa lo stadio Moccagatta di Alessandria contro Lentella vittoriosa per tre reti a uno le due formazioni non si incontrano parliamo ovviamente del Gubbio dalla stagione 2010-2011 nella partita di andata fu l'Alessandria a trionfare in quella di ritorno gli avversari in questo campionato le due squadre hanno entrambi al loro attivo una vittoria ciascuna ed è anche di Alessandria a calcio oltre ad altri avvenimenti sportivi che si sono susseguiti in provincia di Alessandria che ci parlerà tra poco Fabrizio Mattana nella sua pagina sportiva subito dopo sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore grazie come sempre per aver seguito questa edizione del telegiornale e arrivederci a presto a presto a presto